Continua il Cineforum dei Giovani a Liceo Villari, promosso dalla Willi insieme ai progetti di servizio civile dell'Unione Italiana Immigrati e l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Io credo molto in questo percorso perché penso che al di là i femminicidi ormai sono diventati all'ordine del giorno, al di là di un cambiamento legislativo, al di là del fatto che comunque lo Stato debba intervenire, bisogna intervenire sui ragazzi, anzi addirittura secondo me sui bambini e sulle famiglie. Attraverso il cinema e grazie naturalmente ai licei, come il liceo Villari dove siamo questa mattina, riusciamo a dialogare, a parlare con una platea ampia di ragazzi. Il film che abbiamo scelto oggi è Prima Donna, il femminicidio è un tema per noi molto importante, ormai è un dramma sociale. Parlare attraverso il cinema di tematiche come le pari opportunità, la violenza di genere, la legalità, l'inclusione, l'integrazione, è un modo più semplice, più diretto per ascoltare i ragazzi e per approfondire tematiche fondamentali.